ben trovati ben trovati al nostro nuovo appuntamento in cui parleremo di arbar la peste dei neuroni del cervello e lo faremo in compagnia di un nostro carissimo amico carmelo papalino responsabile dell'associazione giordano bruno taranto ciao carmelo ben trovato ciao maria ben trovata a te ciao ragazzi ciao a tutti ciao di arbar e noi ci siamo preparati alcuni messaggi di giorgio di eugenio siragusa e ricerche scientifiche so che tu hai da leggerci un lungo messaggio di giorgio che risale al 1996 quindi ti cedo subito la parola per la lettura ok grazie grazie maria grazie ragazzi allora ragazzi questo messaggio è abbastanza particolare noi cercheremo entro diciamo entro questi appuntamenti di spiegare un po cosa è questa bar da dove viene come si è formata e soprattutto come mantenerci diciamo abbastanza lontani perché purtroppo sul pianeta tutti respiriamo la stessa aria quasi tutti abbiamo la stessa acqua e quindi dobbiamo stare abbastanza attenti comunque come diceva maria questo messaggio risale al 1996 e comincia così con un titolo abbastanza particolare l'arbar subito ci sono delle notizie allora uccide il figlio e potenta di spararsi italia 1996 uccide la moglie perché lo infastidiva parlando in inglese egitto 1996 folle criminale confessa ho ucciso e squartato molte donne italia 96 camera degli orrori violentati e uccisi molti bambini centinaia di film porno con bimbe rapite da pedofili belgio 96 dagli esseri di luce extraterrestri in missione in sul pianeta terra tramite giorgio bon giovanni stigmatizzato al presidente degli stati uniti d'america bill clinton all'epoca la stampa nazionale destra i responsabili civili scientifici religiosi e sociali cioè ragazzi incredibile dal cielo alla terra l'arbar una progressiva destabilizzazione dei neuroni del cervello un morbo che stimola il folle desiderio di uccidere e di uccidersi un'anomalia neuronica dovuta principalmente all'irreversibile inquinamento radioattivo causato dagli esperimenti nucleari e dalle varie scorie di centrali ed altro dall'inquinamento chimico e fisico del vostro habitat che sarebbe aria acqua terra dall'inquinamento dei vostri cibi i quali sono adulterati da componenti cosiddette industriali artificiali sarebbero gli additivi coloranti conservanti eccetera eccetera dall'inquinamento psichico causato dalla droga la polvere maledetta e da una certa musica delle teri eccetera eccetera basta pensare la musica che ascoltano oggi i giovani tutti questi fattori inquinanti che voi uomini avete provocato creano un'alterazione o disquilibrio nei neuroni dei vostri cervelli provocando lo sconvolgimento delle frequenze delle onde cerebrali e quindi una pericolosissima anomalia che noi chiamiamo arbar non è la prima volta che vi spieghiamo sinteticamente questo concetto in questi vostri anni di questo vostro secolo quasi prevalentemente oscurantista tramite i nostri emissari che vivono in mezzo a voi abbiamo cercato di spiegarvi come intervenire per porre rimedio a questo morbo letale l'arbar appunto che a causa vostra potrebbe inestare un rapido processo negativo nei vostri cervelli portando la vostra generazione all'autodistruzione e eugenio siragusa e pochi altri contattati sono stati più profondi conoscitori relatori e informatori su questo morbo letale grazie alle continue informazioni da noi elargite frutto delle nostre continue ricerche e continui sondaggi che scrupolosamente e con preoccupazione svolgiamo già da moltissimo tempo sulla massa celebrale dell'uomo della terra e soprattutto sui livelli psichici e sulle realizzazioni spirituali che egli sperimenta nella dimensione materiale del pianeta terra non avete voluto ascoltare i nostri consigli elargiti attraverso questi emissari non avete voluto credere neppure ad alcuni dei vostri professori laureati in scienze mediche specializzati in neuropsichiatria dotti di varie nazionalità i quali hanno preso in grande considerazione i nostri consigli grazie anche alla loro intuizione spirituale e che hanno comunicato ai loro colleghi il risultato delle loro ricerche sulla distonia dei neuroni del cervello ecco vedi parlano di distonia ricerche sperimentate sui feroci criminali detenuti nelle vostre carceri comprati pratiche mediche terrestri per noi primitive quindi questo ma per i vostri scienziati ancora efficaci che sarebbero test psicologici analisi di alcune cellule neonoriche della corteccia celebrale eccetera eccetera le relazioni ufficiali di questi scienziati docenti neuropsichiatri sono rimaste nei cassetti dei vari governi ignorate come le relazioni dei nostri emissari o contattisti la nostra pena e grande il nostro rammarico si unisce alla nostra tristezza perché sappiamo che questo vostro disinteresse è una causa che produrrà un effetto negativo sulla vostra specie un evento che potrebbe accadere esempio immaginate un governo ribelle o un gruppo di terroristi o un gruppo di criminali legati a una delle cosiddette mafie internazionali che durante una crisi di destabilizzazione neuronica celebrale ossia l'arbar organizzasse un attentato con lanciamissi di bazooka e con altri piccoli o meglio ordini nucleari portatili immaginate le stragi la morte il sangue che perseverebbero sulle vostre strade cosa accadrebbe l'inizio di un progressivo locausto forse non c'è nemmeno bisogno di immaginarlo cari amici terrestri questo processo è già iniziato e il pericolo che queste stragi apocalittiche si manifestano diventa sempre più evidente la nostra vigilanza rimane attiva e non ci stancheremo mai di ripetervi che il nostro amore universale e le nostre entità astrali sono accanto a tutti coloro che sul vostro pianeta hanno realizzato la superiore genetica prodigandosi a favore per la sopravvivenza del pianeta e della vostra specie questi esseri uomini e donne che lavorano nei vari campi sociali solidari politici scientifici spirituali religiosi eccetera eccetera non sono molti ma sufficienti per far emergere la qualità dalla quantità importante questo qualità dalla quantità a costoro raccomandiamo la massima efficienza negli equilibri psichici celebrali armonia pace amore tolleranza amore per la natura desiderio di giustizia alimentazione ordinata permanenza in luoghi poco inquinati eccetera eccetera sono gli elementi necessari per una cura preventiva della malattia dell'arbar sono sentimenti attitudini che impediscono totalmente la manifestazione del morbo ecco ragazzi impediscono totalmente la manifestazione del morbo perché ricordate come ho detto prima ce l'abbiamo tutti l'arbar occhio la forza spirituale della fede deve mantenersi salda e sicura forza spirituale le promesse divine sono in fase di compimento e di questo ce ne stiamo accorgendo il nostro intervento diretto e prossimo aspettiamo che la luce divina ci dia informazione direttiva a questo proposito questo giorno si approssima abitanti della terra e sarà il giorno della grande rivelazione la più grande di tutta la vostra storia quella che provocherà il grande cambiamento e il grande giudizio perché ci sarà la rivelazione di colui che pochi in questo secolo aspettano ci auguriamo come più volte vi abbiamo detto che questo evento programmato dalla superiore intelligenza si manifesti in un momento di pace e di armonia nella vostra civiltà purtroppo i segni negativi che voi proponete e che attivate ci indicano chiaramente che il grande evento avverrà in un momento di grande caos di catastrofi di morte di distruzione della vostra specie la scelta è vostra noi non possiamo imporre a presto pace dal cielo alla terra porto santo elpidio uditi udite 25 agosto 1996 ore 12 giorgio buongiovanni innanzitutto parto dall'inizio una progressiva destabilizzazione dei neuroni del cervello e poi successivamente ad un certo punto dice non avete voluto ascoltare i nostri consigli a elargiti attraverso questi emissari non avete voluto credere nemmeno ad alcuni dei vostri professori specializzati in neuropsichiatria nel 2013 un noto neuropsichiatra tedesco Gerhard Roth dopo vari studi approfondimenti scoprì che esiste una zona del cervello in cui si anida il male lui lo definì un vero e proprio buco nero nel cervello e si trova nella parte frontale inferiore dello stesso quindi ad altezza della ghiandola pineale del terzo occhio chiediamoci perché è ovvio per chi ha un minimo di conoscenze spirituali esoteriche sa bene che addormentare la ghiandola pineale interrompere un flusso energetico e quindi il risveglio del soggetto stesso queste analisi furono queste ricerche furono eseguite su un molteplice numero di detenuti all'interno delle carceri tedesche che cosa venne fuori venne fuori che il cervello di questi assassini e di stupratori e o comunque di criminali di ogni genere non provava alcuna empatia che vuol dire che non provano questi soggetti che hanno appunto la ghiandola pineale addormentata questo buco nero magari c'è la presenza di un tumore in quella zona del cervello non provano alcuna emozione quando hanno di fronte un altro essere umano quindi equivale questo a dire che non riconoscono gli esseri umani che hanno di fronte e quindi nella loro testa nel loro nel loro cervello si sentono in diritto di poter trattare le persone come fossero carne da macello accade che nel loro cervello non si sviluppa alcun tipo di compassione o sentimento di pena i soggetti quindi non provano appunto alcuna emozione alcun sentimento alcuna empatia nei confronti del prossimo abbiamo aperto la lettura di questo messaggio carmelo come ci hai gentilmente esposto in maniera anche chiara con dei titoli di giornale di notizie che riguardavano quegli anni l'anno 96 beh ci sono delle stragi anche più recenti e una delle più famose è quella di oslo in norvegia dove non so se se ricordi i ragazzi i sopravvissuti dissero noi chiedevamo pietà ma lui continuava a sparare è un po come quello che è successo anche nelle scuole in america quando questi pazzi entravano dentro i ragazzi dicevano fermo fermo ma poi lo continuava a sparare esatto questo proprio perché appunto secondo le ricerche del dottor Roth prima secondo gli studi condotti su 119 studenti dell'università di Princeton questi studenti che avevano un'età media di 20 anni questi sono studi condotti nel 2011 quindi non troppo antichi attraverso la risonanza magnetica sugli studi condotti sui cervelli di questi ragazzi si vedevano che molti di loro non provavano orgoglio non provavano invidia ma non provavano nemmeno compassione avevano un rifiuto nel vedere un uomo una donna che chiedevano le lemosina quindi praticamente è proprio come se il cervello di questi soggetti non non entrando in empatia con chi hanno di fronte non riconoscono il problema non riconoscono l'essere umano non riconoscono la vita praticamente poiché se poi accadono mattanze di questo genere è ovvio che non provano nulla parla nel messaggio di inquinamento dei cibi e sappiamo bene c'è stato in passato un messaggio che eugenio siragusa ha ricevuto gli estrogeni somministrati iniettati nelle fragole per pompare la frutta per non farla morire o comunque rovinare al gelo i cibi che ormai sono completamente alterati sappiamo bene o gm c'è un po di tutto in giro da questo capiamo che l'alimentazione è importante perché è importante non è solo una questione fisica perché ovviamente se si parlasse semplicemente degli effetti legati al corpo fisico allora forse tutto sarebbe più facile il problema è che l'arba non va a togliere solo al corpo fisico quindi che ne so ho il diabete no perché mangio tanti dolci e comincia a mangiarmi la retina comincia a mangiarmi i muscoli e poi mi devono amputare un arto e piano piano il diabete ti divora l'organismo il problema è che quel picco glicemico prendo in esempio il diabete ma ci possono essere tante altre malattie legate all'alimentazione quel picco di glicemico andrà ad intaccare le sinapsi i neuroni del cervello che cosa avrà come conseguenza che un soggetto aggressivo svilupperà ancora di più l'aggressività perché non arriva il sangue non pomperà come deve al cervello quindi è come se proprio saltassero no come se ci fosse un un'esplosione di corrente all'interno del cervello del soggetto malato affetto da quella malattia e quindi non ragionasse più per cui un soggetto violento diventerà ancora più violento è importante comprendere questo l'arbar colpisce sia sul piano fisico e sul piano animico e spirituale perché poi sappiamo bene che le azioni porteranno comunque una conseguenza e gli eventi come sappiamo carmelo e forse oggi non lo so avrai acceso la tv avrei ascoltato il telegiornale sicuramente ci saranno state delle notizie poco piacevoli certo ma se ti posso dire qualche piccolo titolo guarda è una cosa normale ormai trovare titoli di tragedie e quant'altro di cronaca nera se vuoi ecco basta vedere qui venerdì pomeriggio uccide la moglie abbastonata e poi si picca cioè voglio dire cosa dicevamo prima nel messaggio una grande voglia di uccidere e di uccidersi ok qui abbiamo un altro titolo omicidio sciocco dice hanno venne ucciso in casa da un amico in casa di un amico qua abbiamo un altro vita stefano sgozzato in strada questa oppure uccide l'ex e ferisce gravemente il nuovo compagno poi ore di fuga si è costituito ecco cioè ci sono tantissime di queste prime pagine a più ne metta perché ti ho fatto questa domanda perché se gli eventi conseguenziali all'arba sono terribili vanno condannati e dovremmo sforzarci di impedirli il soggetto che commette questo stesso atto in realtà va compatito va come dire dobbiamo guardare con disprezzo all'atto che ha compiuto non alla persona perché se è vero come dicevi tu mentre leggevi il messaggio che tutti quanti ce l'abbiamo da noi decidere se alimentare o meno è anche vero che tutti quanti siamo colpevoli ogni qual volta si compie una mazza una pazzia una mattanza del genere perché noi comunque in primis cosa abbiamo fatto per evitare che la terra venisse adulterata nulla per evitare che i mari venissero inquinati in quel modo per evitare che l'aria fosse così sporca cosa abbiamo fatto noi per impedire il l'utilizzo delle droghe una di quelle che causa i maggiori problemi ai neuroni del cervello è la lsd quindi il corpo comincia a muoversi per i fatti suoi il cervello non è più tutte queste cose sono sull'lsd addirittura viene stuve i suoi effetti vengono studiati dal 1939 com'è possibile che nel 2019 ancora si utilizzino queste droghe e poi la musica la musica di un certo tipo che del seria una musica fatta criminale distrugge anche qui anche qui eugenio siragusa molti anni fa ha ricevuto dei messaggi in merito a questo ora non so se questa sera faremo in tempo a leggere tutto ma tanto se non facciamo in tempo sicuramente appuntamenti maria ma ci mancherebbe che non ce la faremo mai si ragusa nel 1990 ha ricevuto un messaggio a più di un messaggio inerente alla musica che i giovani ascoltano perché stimola il suicidio perché nei giovani si accentua il disgusto di vivere perché si cerca questi giovani i cui genitori sono solo concentrati devo andare a lavorare devo fare la spesa devo fare questo devo e questi figli che crescono praticamente da soli cercano di evadere il disinteresse che la comunità odierna prova nei loro confronti allora con che ce la vogliamo prendere se non con noi stessi in primis maria come scusami se ti interrompo tu mi hai detto cosa abbiamo fatto no ma cosa abbiamo fatto anche noi no per far sì perché noi abbiamo come prova già all'epoca avevamo hiroshima e nagasaki giusto e con noi da quel giorno ad oggi abbiamo continuato a produrre bombe nucleari e non abbiamo fermato i nostri potenti e questi scienziati pazzi criminali ma nello stesso tempo abbiamo le pro chiaramente poi dopo in base a quello che ci hanno voluto far sapere ma tanto altro non lo sappiamo ed è questa anche una fase importante sul pianeta terra dal 1948 al 1998 sono stati fatti oltre 2050 esperimenti nucleari maria e tutte queste ragioni per me lo gli esperimenti nucleari gli incidenti nucleari incide brava lo sversamento di scorie radioattive allora ecco hai fatto bene a dire questo perché se è vero che l'arbar nasce da ogni tipo di inquinamento è anche vero che a livelli superiori nasce da quella voglia incolmabile di denaro e di potere che alcuni pochi hanno e detengono nelle mani dimenticandosi e dimenticandoci anche noi che siamo nel mondo ma non siamo del mondo che la terra non ci appartiene che eravamo stati messi dal creatore di ogni cosa da colui che ha il pensiero divino a guardia per permettere la nostra evoluzione e dare la possibilità al regno minerale vegetale animale di poter avere quella stessa evoluzione a cui tutti quanti noi esseri umani dovremmo annelare e invece abbiamo fatto l'esatto contrario ma è anche vero che hanno per delimità come si dice per avere una pace sicura si sono armati fino ai denti sempre di più quindi è anche vero che per fare la pace non dovevamo aumentare di più il nostro potenziale nucleare o le nazioni potenti non dovevano aumentare il loro potenziale nucleare ma per fare la pace doveva fare una cosa semplicissima buttare via le armi e vivere in armonia e in comunione tra i popoli ecco quella era una cosa noi siamo noi esseri umani siamo stati capaci di creare non armonia ma distonia come dicevano i nostri amici allora Cristo ha dato un comandamento fondamentale l'unico che ci aveva detto di rispettare poi tutto il resto potevamo anche farne a meno ama il prossimo tuo come te stesso se non amo me stesso come posso amare gli altri se non amo me stesso dalla mattina quando mi alzo alla sera quando vado a dormire io non posso amare gli altri io non mi amo ogni volta che mi siedo a tavola e mangio tutto quello che mi gira e che non dovrei mangiare non mi amo ogni volta che accendo una sigaretta non mi amo ogni volta che non lo so frigo e butto l'olio di frittura nel lavandino come nulla fosse non mi amo ogni volta che apro il finestrino e lancio dal finestrino un fazzolettino di carta o quello che è allora noi ci amiamo poco la verità è questa perché se ci amassimo davvero ognuno di noi amasse se stesso tante cose non le fa anche i potenti anche questi pochi che detengono il potere la maggior parte del denaro che si trova su questo pianeta se si amassero davvero non farebbero e di conseguenza amerebbero anche gli altri voglio ricordare che su questo pianeta le persone vengono valutate più per quanta carta hanno nel portafoglio e non per quanto intelletto spiritualità hanno nel cuore perché questa è una cosa incredibile basta pensare in america è stato eletto questo signor trump non perché abbia un'intelligenza oppure un'armonia nel suo cuore abbastanza illimitata ma soltanto perché il suo budget finanziario è illimitato quindi questo che sia da ben chiaro cioè è importante certo e questo fa capire anche un altro punto del messaggio che ci hai letto quando dice sono elementi necessari per una cura preventiva della malattia sentimenti e attitudini che impediscono totalmente la manifestazione del morbo quindi il non attaccamento il vivere una vita a contatto con la natura il rispetto della stessa ma soprattutto dici bene la forza spirituale della fede che deve manifestarsi salda e sicura non è quello che abbiamo nel portafoglio che deve essere saldo e sicuro poi dicono le promesse divine sono in fase di compimento beh questo ce lo dicevano già a metà degli anni 70 lo ripetevano qui nel 96 e continuano a ripeterlo quasi ogni giorno il nostro intervento è diretto e prossimo aspettiamo che la luce divina ci dia informazione direttiva a questo proposito è questo è un evento carmelo lo sappiamo bene abbiamo letto per quanto abbiamo ascoltato dai nostri maestri spirituali giorgio pierre flavio e chi per loro sarà il giorno di un grande cambiamento il giorno del grande giudizio un giorno che la storia e l'umanità terrestre non ha mai conosciuto in precedenza voglio dire una cosa soltanto perché qua dice loro dicono ci auguriamo come più volte vi abbiamo detto che questo evento programmato dalla superiore intelligenza ecco voglio puntualizzare questo voglio dare questa piccola informazione i nostri fratelli delle stelle chiamano gesù cristo intelligenza cosmica intelligenza superiore quindi quando loro dicono superiore intelligenza si definiscono diciamo a questo cristo che si manifesti ecco si guarda scusami scusami non vai avanti vai avanti è che da questo che volevo dire che loro chiamano gesù cristo superiore intelligenza o intelligenza cosmica ecco lo definiscono così certo volevo leggervi un messaggio del 1984 eugenio ha ricevuto tantissimi messaggi sull'arbar ma in questo è un messaggio è di un piccolo estratto che ho trovato in rete dove i nostri fratelli cosmici dicevano l'otto marzo del 1984 io carmelo non ero ancora nato l'arbar una progressiva destabilizzazione dei neuroni del cervello un morbo che stimola il folle desiderio di uccidere e di uccidersi distonia neuronica dovuta principalmente a fattori inquinanti droghe comprese capaci di sconvolgere le frequenze delle onde cerebrali provocando l'anomalia che noi chiamiamo arba alcune specie di animali cetacei topi eccetera sono irrimediabilmente prese da questo terribile morbo la specie umana verrà inevitabilmente coinvolta e i sintomi sono già evidenti basta prendere visione dei fatti che succedono e che sono cronaca di tutti i giorni il vostro habitat è seriamente minacciato e le follie sempre più numerose e tragiche noi vi avevamo avvertiti in tempo utile ma voi cosa avete fatto per impedire che questo morbo si sviluppasse che vi aggredisse ancora siete all'inizio e il peggio si rivelerà presto se non provvederete immediatamente maria ma scusami se ti fermo è una cosa bellissima allora innanzitutto tu hai detto che non eri nata ma avevamo detto una cosa importante prima dove dobbiamo capire che noi l'arbar quindi ce l'abbiamo dal 1900 da quando abbiamo cominciato a fare test nucleari e poi tutto questo messaggio hai detto i cetacei ecco voglio ricordare una cosa a tutti quelli che ci seguono non so quanti di voi ma credo che ormai tutti quanti lo avete saputo quante notizie abbiamo sentito e spiaggiati un branco di campidogli spiaggiati un branco di balene spiaggiati un branco di delfini ecco cosa succede nei cinque questi cetacei innanzitutto dobbiamo capire che questi cetacei sono mammiferi quindi partoriscono come noi quindi hanno anche loro diciamo un cervello hanno questo hardware questo quindi praticamente molto sensibile ed è più sensibile del nostro tanto è vero che queste distogne li hanno cominciati ad avere loro addirittura questi esseri questi questi branchi questi animali seguono il capobranco quindi cosa succede cosa diceva eugenio cosa dicevano i nostri fratelli delle stelle una grande voglia di uccidere di uccidersi quindi cosa fa questo capobranco si uccide e fa uccidere tutte queste persone perché sono talmente ormai in distonia perché hanno perché queste 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 vibrazioni forti del pianeta loro non riescono a sopportarne così come non le sopportiamo noi e quindi avvenivano tutti questi spiaggiamenti che loro dicevano sempre che era un grande mistero ma maria non è un grande mistero ce ne sono le prove scientifiche di questa di queste grandi di queste morti di questi è l'arbar e alcuni scienziati lo sanno ma non lo vogliono dire e da questo che volevo puntualizzare il fatto dei cetacei perché una cosa importante quindi non muoiono per caso non si spiaggiano per caso ma si spiaggiano perché hanno una grande distonia e il loro cervello e con così come le nostre i nostri cervelli sono pieni di arbar solo che loro essendo più delicati essendo più spirituali perché gli animali hanno forse più spirito di loro hanno uno spirito collettivo a differenza nostra che non siamo collettivi per niente ed è vero ed è vero non siamo collettivi perché lo spirito collettivo è stato sostituito poi con l'ego sumo con uno spirito individuale il problema è che avremmo dovuto aprire i nostri cuori ad un senso di fratellanza di giustizia di pace di amore quindi tutto il contrario prima di andare avanti con la lettura l'approfondimento sull'alimentazione pericolosa vi volevo leggere un messaggio sempre di eugenio siravusa del 4 agosto 1980 ricevuto da v doc e i fratelli della cristal belle la cristal belle un'astronave diciamone vabbè che ormai chi ci segue lo sa certo che dice questo è un breve messaggio la travolgente e folle egemonia del potere temporale politico ed economico destabilizza sempre più la pacifica e fraterna convivenza dei popoli del vostro pianeta i partigiani del male fomentano odio e terrore soddisfacendo così le mire egoistiche di chi si contende il dominio assoluto del pianeta ignorare tale realtà significa voler nascondere i moventi che spingono le forze degenerate a provocare genocidi persecuzioni ed efferati delitti al fine di sottomettere e schiavizzare quanti non sono disposti a perdere la propria libertà e i propri diritti esistenziali più volte vi abbiamo significato la realtà del tempo e dei malanni che portava in grembo più volte vi abbiamo concesso un panorama sintetico di quanto era gravitante e delle cure immediate per impedire la crescente follia che noi abbiamo diagnosticato con il nome di arbor inquinamento dei cervelli siete rimasti scettici e insensibili di chi la colpa v doc e i fratelli della crystal bell 4 agosto 1980 ore 11 eugenio siragusa io penso che ci sia poco da da aggiungere davvero ormai sono più di 30 anni che i nostri fratelli ci avvisano messaggio a quasi 40 anni bella mia mamma mia è stupefacente quindi allora carmelo vuoi leggerci l'approfondimento sull'alimentazione certo certo allora questo approfondimento è stato preso dal libro stella dal libro non utopia che praticamente sono questi libri che come abbiamo spiegato più volte sono i libri che anche nelle conferenze di piaggio giocaria più volte ormai pubblicizzato e più volte detto sono libri di natura non umana e questo messaggio che non è un'utopia c'è ragazzi un'utopia quindi praticamente non è uno scherzo e adesso lo leggiamo da premettere che questi sono libri che sono stati scritti tra gli anni 60 e 70 quindi cercate di capire la data e vedete come risuonano queste parole anche ai giorni d'oggi il testo non è un'utopia è il sesto grande messaggio che arrivò nel 1965 dallo spazio all'umanità della terra in modo tale che chi ha anche i pdf che pier consegna gratuitamente sa insomma oltre al titolo di quale messaggio stiamo parlando e ci troviamo a pagina 61 per chiunque ne vuole fare richiesta l'email per la richiesta è info piergiorgio chiaria e chiocciola libero punto it poi chiunque ci vuole scrivere potete mandarci un'email a giordano bruno taranto chiocciola libero punto it andiamo avanti abbiamo osservato che su questa bellissima terra si producono moltissime malattie in un numero crescente la maggior parte dell'umanità è malata una simile evoluzione non l'abbiamo mai vista altrove il vostro è un pianeta di malattie ma questo stato marsano non ha nulla a che fare con la purificazione poiché non è affatto volontà di dio che l'uomo venga purificato in questa orribile maniera si intende che l'avversario del signore ha un grande influsso perché gli si permette di penetrare ovunque viene persino incoraggiato a stabilirsi bene ma non è solo questa la causa delle disgrazie della terra l'umanità stessa è colpevole della disgrazia di tante malattie questo fatto di sale già millenni fa in una grandissima misura l'uomo terrestre porta oggi in sé l'eredità dei mali dei suoi avi già dalla nascita egli un uomo malato voi stessi siete i vostri antenati dei incarnati quali anime quindi è la vostra colpa che ora viene alla superficie una delle cause fondamentali sta nella stessa nutrizione errata i nostri avi i santini dei tempi di mosè hanno riconosciuto in un tempo la pericolosa evoluzione della vostra nutrizione nella nave spaziale i santini hanno ampliamento istituito mosè che con un grande pericolo sovrasta che è un grande pericolo sovrasta all'umanità mosè ne ha informato il suo popolo specialmente i sacerdoti che erano anche i medici di allora la nutrizione fu quindi stabilita in ogni particolare certi cibi furono proibiti alla testa dei cibi pericolosi sta la carne di maiale ragazzi ascoltate bene allora non c'era ancora l'esame della trichina l'ateina portava malattie pericolosissime non si tratta solo della trichina ma della carne di maiale in generale il maiale è un animale impuro e per così dire malato nel ricambio e sovra ingrassato e allevato come fornitore di grasso la vostra medicina non è ancora riuscita a provare come pericolosa la carne di maiale nella nutrizione umana giornalmente si uccidono milioni di suini e la carne di cui si nutre tutta quasi la popolazione questo tipo di nutrizione cambia le funzioni vitali del corpo umano ogni uomo che mangia la carne di maiale diventa poco a poco incline a tutte le malattie avete visto i maiali del ricambio i mali del ricambio della circolazione del sangue degli organi interni la formazione di calcoli l'indurimento di vasi sanguigni e molti alti cambiamenti del corpo umano devono essere adebitati all'uso della carne di maiale io so che si andrà contro queste mie asserzioni ma non ci ha fatto da stupirsi poiché gli uomini che hanno sempre da ridire vanno tutto contro quello che a loro non fa comodo per amore della mia missione non devo avere riguardo l'umanità deve soffrire in modo inimmaginabile per questa nutrizione sbagliata ma la maggior parte lo fa solo poiché ignora la causa il maiale si tira su facilmente porta un grande guadagno e questa è per sé e per voi la cosa essenziale se non si muore subito si può lentamente languire fino a morire un male si riconosce tale se si muore immediatamente tutti i mali recessivi che durano per secoli non vengono neanche notati i nostri avi i santini vi hanno sufficientemente ed insistentemente messo in guardia purtroppo senza successo solo una parte degli ebrei si è tenuta alle proibizioni e questi vivono più a lungo e danno meno malattie i maomettani hanno orrore della carne del maiale è proibita dalla loro religione quinto livitino te secondo sette il maiale ha ben spaccate le unghia però esso non rumine quindi sia impuro per voi esistono però anche altre cause che influenzano lo stato di salute dell'umanità terrestre già in un'altra mia comunicazione vi ho fatto osservare che la nicotina e l'alcol hanno un'influenza deleteria vi è da stupirsi che persino i medici di grande esperienza e uomini politici con grande responsabilità che conoscono bene queste conseguenze e pericoli non vogliono rinunciare a questo peccato io dico espressamente vogliano allora ragazzi come abbiamo visto e alla testa di tutti i cibi pericolosi hanno messo la carne di maiale ma la cosa grave che fa questa carne come abbiamo visto c'è da problemi alla circolazione al sangue agli organi e addirittura udite udite la l'indurimento dei vasi sanguigni beh l'indurimento dei vasi sanguigni porta anche infarti giusto maria si tutte queste situazioni che non sono basta pensare allora a questo punto a me mi viene da pensare basta pensare noi quanti prosciutti cotti parma cotto tutta sta roba qui i prosciutti crudi mi ustel tutta questa roba base di maiale per non parlare della carne che noi cuciniamo e che mangiamo è veramente tanto allora il problema che noi dell'inquinamento soprattutto sull'alimentazione che noi abbiamo ai bambini noi nutriamo i nostri bambini con il maiale maria e chi più ne ha più ne metta carmelo pensa che proprio oggi su facebook leggevo un articolo che affermava tutto il contrario cinque validi motivi per mangiare la carne di maiale allora vi lascio con con questa chicca invito riflettiamo tutti quanti ecco invitiamoci tutti quanti a riflettere su quanto ci siamo dentro e ci aggiorniamo nella prossimo appuntamento dove carmelo continuerai se ne avrai voglia ma sicuramente sì insomma è il primo di una lunga serie di appuntamenti insieme alle dirette di giordano bruno taranto continuerai a leggerci quanto è riportato su questo libro in merito all'alcol alla mania alla mania di fumare e vedremo insieme anche altri messaggi di eugenio siragusa e di giorgio bon giovanni che ne pensi carmelo penso che positivi va bene maria allora ci salutiamo così sì ci salutiamo qui carmelo con la promessa che a breve a brevissimo a stretto giro i nostri amici che ci seguono potranno continuare ad ascoltare quanto noi riportiamo ecco perché non vi è nulla di personale ma come diciamo sempre siamo a conoscenza di una verità che vogliamo divulgare a tutti grazie carmelo grazie a te maria grazie a tutti quanti grazie a tutti coloro che ci hanno seguito un bacio ragazzi un bacio a tutti olì ciao grazie a ciao ciao ciao